ciao fragoline benvenuti in questo nuovo video allora prima di iniziare io volevo ricordarvi di mettere prima un bel mi piace poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguitemi su instagram e un commentino qua sotto se volete ancora c'è ancora questa è la prima volta che faccio diciamo rispondo alle domande fatte da voi per cui se volete ancora questa tipologia scrivetelo sotto nei commenti ma non credo che mi piace questa tipologia comunque detto questo allora ho preso un po di domande sabato ho fatto cioè sabato avete visto il blog chi non l'ha visto andatelo a vedere però nel blog vi dicevo di farmi qualche domanda anche qualche domanda interessante per perché così almeno oggi diciamo risponde volito alle vostre domande sono stati pochissime persone cioè praticamente tre persone su youtube mi hanno fatto le domande ringrazio a queste tre persone che mi hanno fatto queste domande sono stato un po delusa per il fatto che quelli che hanno guardato i video c'è il blog non hanno almeno fatto una una domandina per cui sono stato un po deluso di questa cosa qua perché se se io guardo un video di qualcuno io rispondo sempre a prescindere da questa cosa qua comunque dato che le risposte cioè le domande erano solo tre nel blog che praticamente dovevo fare questo video ho ricevuto altre due domande su instagram e altre domande diciamo su ask dove praticamente si fanno tante domande no e ho ricevuto un bel po di domande ho selezionato quelle più belle e dato che erano troppe su ask ho detto meglio selezionare qualcosa prima che poi il video diventa duro duro lungo oh mamma io iniziamo bene comunque le parole vanno così vabbè detto questo che mi sono parlato fin troppo andiamo alle domande rispondo alle domande e vediamo che domande praticamente le domande che avete allora io vado a caso inizio da dalle domande di youtube allora la prima domanda è ti piacciono i fiori ovviamente io li leggo ma voi li vedete qua ti piacciono i fiori al pollice verde qual è il tuo fiore preferito allora io adoro i fiori mi piacciono dipende dal dai fiori però certe volte sì o il pollice verde sono brava a curare i fiori a starci attenta a far sì che non muoiono e il mio fiore preferito allora in teoria ne ho due per cui prima è l'orchidea amo l'orchidea mi piace troppo infatti ne ho due piccoline che stanno piano piano crescendo e invece l'altro fiore è la rosa amo la rosa rossa ne vado pazza per cui praticamente anche se la domanda era riferita a un fiore io ne ho due diciamo preferiti per cui il mio fiore preferito è la rosa e l'orchidea io amo questi questi qua perché sono troppo belli troppo speciali diciamo andiamo avanti perché sennò poi diventa troppo lunga poi qual è il tuo sogno più grande che vorresti realizzare questa è una bella domanda allora il mio sogno più grande che voglio realizzare praticamente è trovare una casa come sto facendo in questi mesi anche se col coronavirus è difficilissimo per cui è peggio trovare una casa col coronavirus e per cui voglio trovare una casa in vendita per andare a convivere col mio ragazzo per cui voglio che questo mio sogno si realizza in più diciamo che ne ho due tre più o meno di sogni però vabbè ve li dico lo stesso il secondo sogno è praticamente viaggiare andare all'estero fare praticamente vedere tutto tutto dell'estero e viaggiare tanto anche questo è il mio sogno per cui sarà difficile che realizzo i miei sogni ma spero che succederà per cui queste due sono praticamente i miei sogni che diciamo che preferisco anche avere tanti animali dopo aver preso la casa nuova per cui sì sono tre facciamo tre sogni avere tanti animali trovare la casa dei miei sogni e viaggiare e andare all'estero praticamente visitare tantissime città quello che vorrei fare per cui spero che si realizza passiamo alla terza domanda ma una scusate ho letto il commento ma non la domanda allora che scuola hai frequentato e quindi che attività svolgi allora io ho frequentato la castellini di como per cui non so non credo che la conoscete praticamente servizi di impresa io facevo cioè studiavo come segretaria lavoravo al computer e studiavo come segretaria all'inizio facevo tipo lavoravo all'inps facevo tipo il tirocinio queste cose qua all'inizio a scuola facevo queste cose qua lavorando all'inps dato che ci voleva un diploma eccetera alla fine non sono andata avanti perché dovevo cambiare scuola e ovviamente dovevo fare un altro mestiere che poi a prescindere qua da me non c'è segretaria dove andare a milano alla fine ho smesso di andare a scuola di studiare anche perché non è che mi piace tanto studiare e alla fine ho cercato il lavoro sono andata era se non sbaglio 2013 ho iniziato a lavorare se non sbaglio adesso non mi ricordo più o meno comunque più o meno quell'anno lì e praticamente io facevo segretaria cioè ho studiato come segretaria servizi di impresa praticamente adesso non mi ricordo più o meno come della scuola perché sono passati tanti anni per cui andiamo avanti perché mi sto già impappinando poi passiamo alle domande di ask che sono tantissime qual è il numero di ore perfetto per dormire? allora io preferirei dormire dalle 9 ai 10 ore perché mi piace dormire sono una dormigliona per cui invece di dormire 8 ore preferirei dormire 2 ore in più ah c'è in poche parole per cui non lo so svegliarsi verso le 10 10 e mezza massimo 11 più o meno passiamo all'altra domanda di che colore sono i tuoi occhi i miei colori degli occhi sono verdi ma credo che si vedono per cui ho gli occhi verdi qual è la cosa più importante in un rapporto questo è bello allora in un rapporto secondo me la cosa più importante è il rispetto per cui se la persona non ha il rispetto di te e tu non hai rispetto di quella persona sinceramente non è un rapporto diciamo che si potrebbe che si potrebbe andare avanti io preferisco avere il rispetto sia di quella persona che ovviamente lui con me per cui il rispetto ci vuole per avere un bel rapporto se non è quello stanne certa o stanne certo che non puoi andare avanti diciamo poi oh mamma ciao faresti il solletico a un ragazzo finché non ti stanchi c'è proprio questa una domanda stranissima sì diciamo che a me piace fare il solletico io certe volte lo faccio il mio ragazzo per cui diciamo che è divertente e ogni tanto sì ogni tanto faccio il solletico al mio ragazzo e mi piace sì mi piace passiamo un'altra hai la patente tu che macchina guidi allora sì ho la patente guido la macchina di mia mamma che è una Yaris quella Yaris Brig oh mamma mi va bene anche la voce non mi ricordo non mi ricordo il mod mi sto perdendo mi sto perdendo vabbè non me la ricordo il modello comunque ve lo scrivo qui cos'è meno che comunque sì c'è uso la macchina di mia mamma perché dato che dato che non ho una macchina io allora uso la macchina di mia mamma o di mia mamma o di mio padre o di mio fratello perché abbiamo tre macchine e uso una di loro di loro tre ma di più uso quella di mia mamma che è praticamente quella elettrica che non devi stare lì a cambiare le marce questa era una bella domanda poi quanti anni hai di dove sei tu esattamente allora diciamo che tutti mi danno 30 anni cioè molto più grande non so perché mi danno 30 anni di età certi vedono che io ovviamente sul canale c'è scritto fragolino 86 e allora pensano che io ho 30 anni che sono dell'86 invece no cioè l'86 del canale non sono i miei anni sono praticamente è praticamente la canzone di Checco Zalone che io ho messo come titolo del mio canale per cui molti sia su instagram che ovunque mi dicono ma tu hai 30 anni e io mi dico no non ho 30 anni e io mi dico no per cui la mia vera età è 25 anni io sono del 95 1995 non ho 30 anni e non sono dell'86 o 89 adesso non so chi me l'ha detto ma ho 25 anni e sono del 95 di dove sono sono di Como questo per cui sono di Como e ho 25 anni stavo di 185 anni non so perché stavo meno male che poi mi sono fermata perché stavo di 185 anni vabbè allora questa è una domanda proprio ci sono rimasta allora ti starebbe bene il piercing sulla lingua? no cioè a me non piace il piercing e sinceramente non li voglio fare piercing eccetera forse tatuaggi forse 2-3 tatuaggi sì potrei potrei però adesso non ne ho e per il momento lascio perdere però piercing piercing no non li voglio avere e non non li faccio è una domanda proprio poi andiamo veloce lavori o studi? io lavoro lavoro da un bel po' come avevo detto prima nell'altra domanda sono ormai dal 2013 che io lavoro ho girato tantissimi lavori ho fatto tanti lavori perché non sono ancora fissa ma sto lavorando non studio non studio più praticamente usciresti con un ragazzo del 95? allora sì diciamo che io sono del 95 per cui sì esco con potrei uscire con un ragazzo del 95 ma dato che sono fidanzata preferisco uscire con il mio ragazzo che uscire con altre persone in cui non conosco almeno che sei un mio amico che dico ok se un mio amico siamo tutti amici ok ci sta ma così no per cui è una domanda strana sta qua poi qual è il tuo piatto forte in cucina? allora il mio piatto forte in cucina è fare i dolci io faccio talmente tanti esperimenti per fare i dolci che amo cucinare ma la cosa che amo di più è fare i dolci è fare le torte è fare tutte queste cose qua questa è una cosa che mi piace troppo e per cui il mio piatto forte sono le torte torte di compleanno quelle le so fare meglio bella domanda questa poi che cellulare hai tu? la marca allora io sto registrando con l'iphone 5 l'iphone 5 l'iphone 11 per cui ho comprato il telefono da ormai quasi un anno e ho l'iphone 11 che sto registrando con quello io ovviamente dato che le domande ce le ho lì ma le ho trasferite dall'altro telefono questo qua è l'iphone 6 e sto leggendo le domande se no non riuscivo a fare questo video comunque ho l'iphone 11 poi beh questo proprio non me l'aspettavo sai ruttare a comando ma che domanda è? cioè proprio questa è una domanda no 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 e non mi piace sinceramente per cui è una domanda un po' strana vabbè poi da quanto sei fidanzata? allora sono fidanzata da 10 anni e quasi 4 mesi praticamente farò 11 anni a gennaio il 29 gennaio farò 11 anni col mio fidanzato vado breve poi cosa ne pensi delle relazioni a distanza? allora sinceramente non mi piacciono perché io quando ero piccola avevo 18 no non avevo 18 anni ho sbagliato avevo 15 anni ero piccolissima a prescindere che lì non sapevo neanche cosa stavo facendo comunque ho avuto tante relazioni a distanza lontane che sono durate un anno però dato che ero piccola non sapevo cosa stavo facendo e non sapevo che cosa diciamo voleva dire praticamente sì sono stata con un ragazzo anche anzi due tre per cui secondo me la relazione a distanza non è bello preferisco avere un amico cioè un amico io dico un amico però inteso un ragazzo vedendolo proprio di persona e non avere una relazione a distanza per cui preferisco avere una relazione da vicino che a distanza chiudiamo qua perché se no sono forse altre tre o quattro domande per cui facciamo veloce perché sono ormai quasi 20 minuti per cui sono quattro domande quattro domande quattro domande facciamo veloce perché già troppo allora l'altra domanda è ti sposerai in futuro allora sinceramente spero di sì spero che in futuro mi sposerò perché a me piace e vorrei sposarmi per cui spero poi sei fidanzata ovviamente sì perché ho letto ho letto ho risposto all'altra domanda da quanto sono fidanzata per cui sì sei mai stata legata e imbavagliata per gioco oh mio dio no e non vorrei farlo per cui poi l'altra domanda sotto ciao ti è mai successo di colpire un ragazzo nelle parti basse cioè ma queste sono proprio domande stranissime no a prescindere quando forse tre anni fa stavo giocando a calcio col mio ragazzo e con i miei fratelli e per sbaglio invece di colpire la porta per fare gol ho colpito praticamente nelle parti basse il mio ragazzo per cui io ho fatto io ho tirato la pallonata proprio lì invece di fare praticamente diciamo gol cioè solo questo ma nelle parti basse no andiamo avanti che è meglio altre due domande le indossi le ciabatte da casalinga non so perché mi hanno fatto questa domanda questa è la domanda da instagram sì è normale credo tutti indossano delle ciabatte per stare in casa io ne ho 2-3 perché mi piace indossare tantissime ciabatte per cui sì ovvio che le indosso l'ultima domanda per fortuna perché 21 minuti è già tanto quanti anni hai? questa in teoria ho già risposto ho 25 anni per cui diciamo che due o tre erano quasi uguali e non mi sono neanche resa conto comunque niente queste sono state le domande è durato anche fin troppo e sinceramente se sapevo ne sceglievo di meno perché a parte che mi dilungo sempre vabbè niente spero che questa tipologia vi è piaciuta spero che vi sono piaciute le mie risposte domande un po' strane ma ce ne erano altre tante domande che ho ricevuto un po' strane ma ho scelto di più queste niente vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel like un commentino qua sotto e mi raccomando seguitemi su Instagram non so dove lo metto ma in questo video io ho detto tutto e dato che è durato fin troppo questo video vi saluto ci vediamo al prossimo video e niente per cui al prossimo video grazie per la compagnia e grazie a chi ha visto fino a qua il video io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao